Uno telefona in un manicomio, gli rispondono, c'è pronto un manicomio comunale? Dice, senta, scusi, una cortesia, mi potrebbe controllare la stanza 331 se è libera? Come no? Aspetti! E lo va a controllare, dopo qualche minuto rientra il telefono, c'è, pronto sì, allora guardi, le confermo che la stanza 331 è libera. Ah, grazie, allora vuol dire che sono scappato!